mamma perché nello scatolone dei souvenir ci sono dei personaggi del presepe ma quale presepe queste sono due statuette intagliate a mano che provengono dalla nigeria la nigeria è un paese affascinante con una ricca tradizione culturale musicale e conosciuta per tutti quegli stili di danza musica addirittura le antiche tribù savano degli strumenti come aspetta come si chiama lo scechere si si lo scechere e lo usano durante le cerimonie le loro festività wow la nigeria queste statuette sembrano davvero affascinanti oh Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.